Eccoci qui amici, eccoci, eccoci qui per un nuovissimo video e per parlare insieme del grande fratello VIP perché stavolta, occhio, parla l'ex fidanzato di Nikita Pelison. Lui, dovete sapere che è stato uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, un noto influencer conosciuto e imprenditore. La decisione di scrivere una lettera è stata presa dopo tanta riflessione, ovviamente non poteva che essere indirizzata all'ex, cioè a Nikita Pelison, una delle concorrenti più discusse di questa edizione del grande fratello. La lettera, insomma questa incriminata, è stata poi pubblicata sulle pagine della rivista Di Più. Matteo Diamante scrive quindi una lettera a Nikita. L'ex fidanzato della VIPona decide di rompere il silenzio e scrivere proprio in maniera letterale, nero su bianco, la sua verità sul rapporto proprio con Nikita. Inevitabile quindi svelare alcuni dettagli rimasti fino ad oggi sconosciuti al pubblico, ma che tra poco sapremo. Ma l'influencer non ha voluto un'altra possibilità di replica alla luce di quanto affermato sul suo conto davanti ai compagni di gioco. Facciamo un piccolo reso conto però. Nikita in casa ha raccontato molto in merito alla relazione con Matteo Diamante. La che, diciamo a lungo andare, ha allogorato il loro rapporto fino al raggiungimento del capolinea. Ma per Matteo la verità sembra essere un'altra e accusa la geffina di non essere stata del tutto sincera, cioè sincera ma fino a una certa, dicendo ti ho trattato come una principessa, ti ho dato tutto quello che avevo e per ben due anni è stato tutto perfetto. Poi tu ho avuto problemi finanziari abbastanza gravi. Ho subito una truffa che mi ha rovinato e tu invece di star biancanto che cosa hai fatto mi hai lasciato. E questo lo scrive appunto nella lettera. E sulla gelosia ha detto è vero mi è capitato di essere geloso perché ti avevo chiesto di non frequentare persone legate al mio ambiente di lavoro ma tu che cosa hai fatto non mi hai mai dato retta. Ti ho fatto scenate ma anche tu ne hai fatta a me. Siamo stati sempre legati anche quando eravamo impegnati con altre relazioni e tutte le volte che ci rivedevamo era sempre come fosse la prima volta. Alla fine mi sono stancato e ho messo decisamente un punto. Nonostante questo ho sempre continuato a volerti bene e quando ho saputo che andavi al grande fratello ero felice. Mi sono mosso per poterti supportare anche al televoto e mai, ripeto mai, mi sarei aspettato di sentire da parte tua dei commenti così brutti e offensivi parlando di me. E su Nikita Pelison e George Chupilan Matteo non ha sollevato alcuna critica, anzi si è detto, beh, insomma abbastanza felice del loro regame. Anche se il geffino legato a Diamante da un rapporto di amicizia ha ammesso di non potersi spingere oltre. E questo cari amici è tutto per quanto riguarda questa lettera in particolare. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi come ci sarà qualcos'altro ci risentiremo per un prossimo aggiornamento o per il grande fratello o per qualcos'altro. Mi raccomando rimanete informati, iscrivetevi al canale se non siete iscritti o seguite semplicemente la pagina. Segui, segui, segui.